Complimenti Ci vuole un bel coraggio per varcare le soglie del casino a Carcosa Potrebbe interessarti un salto alla slot machine Che fai di bello ad Halloween? Io l'anno scorso ero ad un concerto pazzesco e quest'anno andrò con un paio di amiche a vedere dal vivo un podcast di True Crime L'anno scorso è stata una serata fantastica e anche quest'anno mi divertirò sicuramente Ma sai che ti dico? Mi manca la classica serata a casa con gli amici a mangiare pizzette a forma di teschio e a guardare film horror spesso di dubbio gusto La parte meno sfiziosa della serata era passare dai 30 minuti in su a sfogliare i vari cataloghi dei servizi di streaming alla ricerca di un film che non avessimo già visto che non sembrasse una ciofeca già dalla locandina e soprattutto che suscitasse interesse in almeno tre quarti dei partecipanti alla serata Se quest'anno ad Halloween starai a casa, con o senza amici vorrei aiutarti ad evitare questa sgradevole parentesi e in caso i consigli di questo episodio non ti bastino puoi sempre consultare l'episodio di un anno fa o la top 10 che ho fatto con Beatrice In giro per il podcast troverai di certo il film perfetto per questa notte speciale Iniziamo con un titolo che può sembrare banale e anonimo Anche perché è una parola abusata nel genere Si intitola molto semplicemente Darkness di Jaume Balagueró Il regista di Rec, che se non l'hai ancora visto ti consiglio vivamente è a dir poco uno dei migliori mockumentary found footage mai fatti Forse non è adatto ad una serata di feste in compagnia perché lo stile non è palatabile per chiunque però ecco, almeno una volta nella vita andrebbe visto Darkness parla di una famiglia che si trasferisce in Spagna in una stupenda villa in campagna che esiste da decenni ma in cui non ha mai abitato nessuno Come sempre, quando qualcosa è troppo bella per essere vera ha un inghippo Presto i membri della famiglia cominciano a non trovarsi a loro agio tra le mura domestiche La salute fisica e mentale del padre declina a rapidità vertiginosa Il figlio piccolo interagisce sempre più spesso con qualcosa che vive sotto il suo letto e la figlia maggiore deve prendere in mano la situazione e indagare nel passato della casa per capire cosa si nasconde davvero in quelle stanze buie Ci sono diversi visi familiari nel cast ad iniziare dalla figlia che è interpretata da Anna Pakin Rogue di X-Men o Suki Steakhouse di True Blood serie per cui ultimamente provo la forte tentazione di ricominciare a leggere i libri e ho bisogno che qualcuno mi trattenga dal farlo perché sono tipo 78 Il padre è Ian Glenn Jorah Mormont del Trono di Spade e infine abbiamo anche un attore italiano Giancarlo Giannini che ha fatto di tutto e l'ha sempre fatto benissimo In particolare mi sono innamorata di lui nel 2006 con una serie Racconti Neri in cui interpretava brevi storie inquietanti stilate da grandi penne come Poe, Doyle, Beers Sono 14 episodi brevissimi che puoi trovare su YouTube In poco più di un'ora li vedi tutti quindi dai, infiliamo anche questo nell'elenco dei consigli Tornando a Darkness nonostante possa sembrare l'ennesimo film alla Poltergeist o alla Amityville ha dalla sua delle ottime interpretazioni naturalmente da parte di Giannini ma anche di Glenn delle trovate registiche notevoli e soprattutto un crescendo finale da palpitazioni Non ti cambierà la vita se hai già visto diversi film sulle case maledette dati riprovevoli infatti non è un titolo popolare ma forse è proprio per questo che va rispolverato Non si dà abbastanza credito agli horror spagnoli e questo è male Potrei fare una puntata al riguardo sarebbe interessante, no? Rimaniamo in Europa anzi, rientriamo proprio in casa con il prossimo consiglio un film italiano che io quasi non volevo guardare perché nel cast c'è un comico fin troppo famoso che però mi ha fatto ricredere quasi subito Non siamo naturalmente di fronte ad un Argento un Bava un Avati non siamo nemmeno di fronte ad un grandissimo film ma ad un progetto che secondo me va sostenuto perché ad opera di un giovane regista Daniele Misischia che si è fatto le ossa con i cortometraggi ma che nel 2017 con il suo The End l'inferno fuori aveva già tirato la mia attenzione Visto che nell'elenco dei consigli non ho messo niente con gli zombie te ne parlo brevemente Come concept è molto simile al mio amato Stold una commedia horror inglese in cui un ladro rimane bloccato nel bagno di un ufficio durante l'apocalisse zombie In The End lo dico così perché al punto di domanda alla fine seguiamo le sventure di un broker che come rifugio durante l'apocalisse zombie trova un ascensore è prodotto dai manetti Bros che di recente mi hanno un po' persa per colpa di Diabolic ma che non scorderò mai come i registi di Paura e i produttori dell'Ubaldo Terzani Horror Show i primi film che mi fecero drizzare l'antenna verso l'horror nostrano Il film che ti direi di guardare soprattutto se sei in una serata in compagnia e non vi va di vedere niente di troppo serio ma nemmeno di troppo innocuo è Il mostro della cripta del 2021 diretto da Misischia e scritto dai manetti Parla di un giovane aspirante regista che vive in un paesino di nome Bobbio dove prova tra diverse difficoltà a girare corti horror con i suoi amici che non sono tanto entusiasti quanto lui Lui lo sento come uno spirito molto affine vive di film e fumetti di paura in un posto troppo piccolo per i suoi sogni e spera solo che qualcosa scuota la sua vita monotona o almeno lo spera finché qualcosa non succede davvero Bobbio è un paesino normalissimo che però ospita sulle sue colline un misterioso obelisco di cui nessuno conosce davvero l'origine ed un giorno il nostro protagonista vi trova una ragazza legata e squartata inoltre si accorge che un fumetto della sua collezione è ambientato proprio a Bobbio e contiene terrificanti profezie decide così di andare dal fumettista a chiedere delucidazioni e qui arriviamo al comico che quasi mi faceva passare la voglia di vedere il film perché il fumettista è interpretato da Pasquale Petrolo in arte Lillo ora con tutto il bene che si può volere a latte i suoi derivati la vende intendo non il cibo perché sono intollerante al lattosio io un horror con Lillo non lo riuscivo nemmeno a concepire nonostante ne abbia già visto uno amo molto i film horror con elementi comedi ma non quando sono recitati da comici conclamati come quell'altra assurdità italiana con Pannofino Manera e Lillo per l'appunto si chiama una notte da paura e te lo dico solo perché così tu non lo guardi mai perché è imbarazzante ti giuro avendo già visto una notte da paura temevo che anche il mostro della cripta fosse terribile anche e forse soprattutto a causa di Lillo e invece mi sono dovuta ricredere perché anzi le parti con Lillo sono le migliori non attira tutta l'attenzione su di sé nonostante sia in pratica l'unico nome famoso nel cast e in generale il suo personaggio è credibile e funzionale alla vicenda una storia un po' lovecraftiana di famiglie disturbanti e misteriose creature purtroppo non si dà abbastanza credito al cinema horror italiano contemporaneo ed è vero che ogni tanto produciamo immondizia però ogni tanto qualche titolo buono lo spariamo quindi dai potrei fare anche un episodio sugli horror italiani visto che tutti gli altri titoli inseriti in lista per l'episodio di oggi sono produzioni statunitensi ultimamente la casa di produzione statunitense che più mi dà soddisfazioni è la A24 che ci ha dato ereditere Midsommar The Witch at the Lighthouse e i recenti Men e Talk to Me e Bodies 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 è perfetto con la P maiuscola per un Halloween con gli amici perché è uno slasher un po' diverso dal solito che si svolge nel corso di una sola notte durante una festa per celebrare una tempesta e se senti il vento che sta tirando in questo momento ci sta i telefoni non prendono la corrente è saltata e nessuno degli invitati si fida dei suoi tra virgolette amici ho apprezzato molte cose di Bodies 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 in primis come la regista ha gestito la mancanza di luce compensata solo dalle piccole torce dei cellulari e dalle collane fluorescenti che in un altro contesto elettrizzano la festa ma che qui sembrano solo cappi al collo i personaggi sono un mucchio di insopportabili privilegiati falsi frenemies un neologismo che in italiano non abbiamo ma che è molto facile da capire sono quegli amici nemici che si frequentano puro odiandoli e che in questo frangente portano all'estremo i loro screzzi e le loro tensioni durante un gioco dal nome che dà il titolo al film i partecipanti alla festa trovano il loro ospite morto in giardino e temendo di avere un assassino tra di loro iniziano immediatamente a sospettare gli uni degli altri a cercare di difendersi sempre più violentemente fino ad arrivare allo sconcertante direi quasi geniale finale una nota di merito va alle interpretazioni delle attrici indiscusse regine del film Rachel Sennot, Amanda Stenberg e soprattutto Maria Bakalova che avevo già amato fino alle lacrime lacrime di commozione in Boris 2 è divertente che in questo film ci sia anche un attore famoso come Lee Pace e che io quasi non me ne sia accorta da quanto forti e azzeccate sono state le ragazze in un genere come l'horror in cui solitamente se sei femmina sei lì solo per farti accoltellare o per sopravvivere dimostrando di non essere come le altre ragazze è importante ed applaudire un film in cui i personaggi maschili spariscono di fronte alle sfumature e agli approfondimenti dei personaggi femminili quindi tanto di cappello per la regista e la sceneggiatrice Alina Reyn e Sarah Delap che hanno lavorato sullo Specscript scritto dalla candidata al Pulitzer Kristen Ropenian forse Specscript è un termine un po' tecnico che non dovrei buttare giù così senza spiegazioni quindi ti rubo un minutino per spiegarlo meglio Uno Specscript o Speculative Screenplay è una sceneggiatura scritta senza commissione diciamo un biglietto da visita con cui si cerca di attirare l'attenzione di uno studio non è propriamente una sceneggiatura fatta e finita ci si concentra di più sui dialoghi e sulla storia che sulle indicazioni di scena e i movimenti di macchina perché è un modo in cui chi scrive vuole far capire come e quanto sa lavorare sui personaggi e sulla trama diversi Specscript hanno avuto fortuna e sono diventati premi Oscar come Will Hunting e quel capolavoro che è American Beauty fine della parentesi sui termini tecnici cinematografici torniamo ai consigli in questa seconda stagione di Casino Carcosa ti sto parlando spesso di Final Girls e di primi capitoli di saghe lunghe eterne che spesso e volentieri sono i più belli e i meno visti perché magari la serie è iniziata prima che noi nascessimo nel mio caso mi riferisco a Nightmare e Halloween che nel momento in cui io ero pronta a vedere film horror erano già rispettivamente al settimo e al decimo capitolo della serie nel mio caso nei primi anni del 2000 non avevo internet quindi non potevo nemmeno informarmi riguardo ai capitoli precedenti e non ero grande abbastanza da noleggiarli quindi o mi guardavo le nuove uscite o niente piuttosto che niente è meglio piuttosto quindi mi è capitato più volte di iniziare le saghe da un punto a caso vedi Scream 3 per dire che è stato il mio primo film horror in assoluto sono passati più di dieci anni prima che rimediassi il primo Scream tutto questo cappello introduttivo per dire magari conosci una saga in corso però non hai mai visto il primo film e dovresti farlo soprattutto per quanto riguarda Final Destination questa sì che è una saga che ho seguito film dagli albori e non scorderò mai quella notte a casa di nonno Tonio a guardare un film col bollino rosso in una minuscola tv a tubo catodico con la doppia antenna e sei minuscoli pulsantini per scegliere i canali una roba da poseo era il 2001 ed ero decisamente troppo piccola per capire che i ragazzi che mi stavano morendo davanti agli occhi stavano benissimo nella realtà e per i mesi successivi ho avuto paura del mio bagno ma quei brividi quel bisogno di distogliere lo sguardo e allo stesso tempo quell'incapacità di riuscirci sono emozioni che vorrei riuscire a provare ancora penso sempre al secondo Final Destination quando sono in autostrada e vedo camion trasportare materiali che potrebbero causare terribili incidenti ma non lo riguardo da anni mentre invece il primo Final Destination lo rivedo con una certa frequenza perché nella sua semplicità lo trovo ben pensato ben fatto e ancora efficace e soprattutto credibile a differenza dei Final Destination dal 3 in poi il protagonista Alex sta per fare una gita in Francia con la sua classe ma in aeroporto ha una visione talmente intensa da far perdere il volo a se stesso alcuni compagni di classe e un insegnante la visione si avvera presto e l'aereo che dovevano prendere tutti esplode poco dopo il decollo alla morte però non sta bene che loro si siano salvati e tornerà a prenderli uno ad uno trovo adorabili un paio di scelte di cast innanzitutto il protagonista è Damon Sawa che presta il volto a Casper nella breve scena di ballo alla fine del film del 95 ma il coroner che spiega ad Alex la filosofia della morte è Tony Todd ovvero Candyman una saga horror forse meno nota dell'altro frutto della mente malata di Clive Barker ovvero Eraser ma non per questo meno interessante trovo divertente che in Candyman lui sia un dispensatore di morte mentre in Final Destination abbia il compito di raccogliere i cadaveri mi sa un po' di legge del contrapasso in generale trovo che questo film si adatti molto bene ai vari tipi di serata che si possono trascorrere ad Halloween non è troppo impegnativo ha una trama molto lineare e comprensibile ci sono quei due o tre momenti che ti mozzano il fiato perché non li hai visti arrivare ma ci sono anche quelle istanze in cui sai che qualcosa di brutto sta per succedere e ti viene voglia di urlare i personaggi no non andare lì non fare così e soprattutto perché secondo me è il suo miglior pregio non è violento in modo canonico non è un torture porno non è uno slasher non ci sono persone crudeli o mostri che fanno male alla gente sono solo incidenti e sì la gente muore anche male però non viene tecnicamente uccisa tutto si può attribuire alla sbadataggine all'incuria o alla semplice sfortuna noi sappiamo che non è così perché ce lo spiega Tony Todd però quante volte si sente parlare di persone cadute da troppo in alto o scivolate in bagno quante volte avremmo voluto puntare il dito contro un colpevole e non l'abbiamo trovato non sottovalutiamo il primo final destination solo perché dal terzo film in poi l'hanno malamente buttato in cacciara nei consigli che ti ho dato l'anno scorso sono stata attenta ad inserire un po' di tutto vampiri zombie alieni maledizioni fantasmi mentre quest'anno mi rendo conto sto rimanendo un po' più sul vago maledizioni misteriose mostri ignoti feste andate male la lista delle cose da fare della morte visto che il mio argomento preferito ovvero quello che anche dopo anni e anni di film a tema ancora mi fa paura sono i fantasmi lascia che ti indirizzi verso quello che negli ultimi anni mi è sembrato uno dei migliori se non proprio il migliore film sui medium Paranorman Paranorman è un film in stop motion del 2012 prodotto da quel gioiello che è la Laika lo studio che ci ha dato Coraline Cubo e la spada magica Box Trolls La sposa cadavere e tanti altri titoli stupendi nonostante la battaglia tra Coraline e Norman per conquistare il posto d'onore nel mio cuore sia quasi ad armi pari Paranorman ha una cosa che Coraline non ha oltre ad essere un ottimo film di paura per bambini che piace anche agli adulti è anche così divertente e toccante da diventare a dir poco perfetto parla di Norman un bambino che non riesce ad inserirsi né a scuola né in famiglia perché da sempre vede i fantasmi e riesce ad interagire bene solo con loro ha una sorella maggiore a cui sembra importare solo di popolarità trucco e ragazzi dei genitori che non lo capiscono e all'inizio del film incontra il suo primo amico vivo un bimbo un po' strambo che rimane incantato dalla capacità medianica di Norman Norman vive a Blyth Hollow un paesino ispirato a Salem che trae molto onore dall'essere stato teatro dell'esecuzione di una strega di nome Agatha l'economia della cittadina ruota tutta attorno ai souvenir a tema streghe la statua della piazza centrale di una strega ogni anno si organizzano recite e rievocazioni del grande evento però allo spirito di Agatha questa cosa non sta tanto bene e Norman è l'unica persona in grado di comunicare con lei tuttavia non è così facile quando gli zombie iniziano ad uscire dalle loro tombe e tutti in paese si armano di mazze e forconi per combatterli Paranorman è un adorabile invito ad ascoltare prima di giudicare una commovente storia su quanto possano fare male i preconcetti e su quanto sia importante accogliere chi consideriamo diverso da noi alcuni siparietti sono simpaticissimi la caratterizzazione dei personaggi riserva un sacco di sorprese le scene spaventose fanno il loro dovere e anche se non si raggiungono i vertici di batticuore dello scontro finale tra Coraline e l'altra madre resta comunque un più che dignitoso fin di paura la sua forza però risiede nella sua dolcezza non nell'orrore lo facciamo un episodio sui film d'horror d'animazione? io dico di sì dai gli ultimi due consigli che ti voglio dare si somigliano e si contrappongono in maniera un po' strana ma penso che entrambi vadano bene per una serata in compagnia uno si presta bene ad essere interrotto in qualsiasi momento metti che a una certa ora si va a ballare o qualcos'altro l'altro volendo si può interrompere ma la domanda è vorrete interromperlo o farete come me e ve lo sparerete tutto in una sera sola il primo è abc's of death si tratta di una raccolta di cortometraggi veramente corti alcuni durano un paio di minuti e l'unico collegamento tra loro è che i titoli sono in ordine alfabetico e vanno dalla A alla Z il titolo si riferisce a modi per morire alcuni sono paranormali e prevedibili altri sono completamente fuori di testa ogni corto è ad opera di persone diverse quindi gli stili utilizzati sono i più disparati si va dal mockumentary all'animazione dal grottesco all'arte visiva dal comico allo splatter quindi è un buffet in cui è molto facile trovare qualcosa di proprio gusto e se proprio c'è un capitoletto che non ci piace amen nel giro di pochi secondi è già finito non avendo una trama orizzontale si può guardare fino a metà e non ci si perde niente o meglio forse si rimane col dubbio che il corto più bello poteva essere quello col titolo che inizia per Y però nulla ci impedisce di riprenderlo in un secondo momento a me questo formato piace moltissimo ed ero molto tentata ad inserire in questo episodio i miei amati VHS e Southbound però in questi film portmanteau i capitoli sono piuttosto lunghi e non li trovo così adatti a una festa ABC's of Death invece è più frizzante a tratti così assurdo che vederlo in compagnia diventa non dico necessario ma sicuramente preferibile altro pro di ABC's of Death c'è anche ABC's of Death 2 alla fine della visione alcuni corti ti rimarranno più impressi di altri nel bene e nel male però è un po' come fare una di quelle scorpacciate di horror short su YouTube senza la sbatta di andare a cercare i titoli l'ultimo titolo che ti voglio consigliare non è un film ma una serie però sono 10 episodi da circa 20 minuti quindi non ha una durata tanto diversa da un lungometraggio se ti devo dire il genere o il tema la mia risposta è boh è Shyamalan io amo quell'uomo è fuori come un balcone e le sue storie sono staccate dalla realtà e dalla fantasia lasciano più domande che risposte però mi attanagliano senza fallo tutte le volte qualche giorno fa ho iniziato Servant e prima che potessi rendermene conto avevo già finito la prima stagione per non farti spoiler dovrò stare super vaga Servant parla di una coppia di giovani genitori che ha bisogno di una tata quando la tata va a stare da loro iniziano a succedere cose strane non brutte strane paranormali criminali boh ho da poco finito la seconda stagione e ne so quanto prima però adoro non sapere adoro finire ogni episodio e urlare cosa? prima di far partire quello successivo adoro che ogni cosa succeda mi fa strabozzare gli occhi e dubitare di tutto e di tutti forse è una storia di sette forse è una storia di stregoneria di certo è una storia su quanto la gente sia disposta a fare per ottenere ciò che vuole e non perderlo le interpretazioni sono da lode in particolare l'attrice che fa la mamma Lauren Ambrose ha una mimica facciale che io non avevo mai visto prima e Rupert Grint che interpreta suo fratello è impeccabile non sbaglia un colpo in teoria è il sollievo comico ma in pratica è il personaggio più umano e tragico dell'insieme e che dire della casa la vicenda si svolge in un palazzo labirintico che in teoria è solo una casa a tre piani ma che in pratica diventa un dedalo di stanze e scale impossibili degno dell'overlook hotel di Shining è una di quelle rare occasioni in cui si dice che l'ambiente diventa un personaggio ed è vero non è solo un modo di dire vorrei poterti raccontare di più vorrei poter sclerare e condividere le mie ipotesi i miei dubbi ma starò calma e ti appoggerò qui quest'ultimo consiglio guarda Servant poi mi farai sapere mancano cinque giorni al 31 e spero che la tua serata vada splendidamente qualsiasi cosa tu decida di fare se vorrai farmelo sapere puoi scrivermi su Instagram a Casino Carcosa oppure qui nei commenti dell'episodio se vorrai anche seguire il podcast e darmi una valutazione con le stelline sarebbe un bellissimo regalo di Halloween a meno che la stellina non sia una sola allora in quel caso guarda te lo puoi tenere guarda come se avessi accettato ci sentiamo venerdì 3 novembre con due ospiti per parlare di morti a 33 giri la recensione prevista per oggi che ho fatto slittare per poter avere un'altra voce amica nel podcast e fino ad allora ti auguro che la fortuna stia dalla tua parte e che tutti i giochi del casino siano sempre a tuo favore a tuo favore a tuo favore Grazie a tutti.